Un cordiale saluto dalla redazione, ben ritrovati con l'appuntamento dell'informazione su Telemerito canale 625 a Digitale Terrestre anche per questo giovedì 7 di novembre 2014. E' allerta meteo in tutta la Calabria, situazione critica quella prevista in Calabria a causa delle avverse condizioni meteo, la Protezione Civile ha dichiarato il Codice Rosso e lo stato di massima allerta con la situazione che potrebbe peggiorare. Nelle prossime ore quasi tutte le scuole e le università della Regione sono state chiuse nella giornata di oggi in attesa di comprendere come si evolverà la situazione. Nelle prossime ore si attendono ulteriori aggiornamenti. E a Reggio Calabria è arrivata l'allerta anche dalla Prefettura attivare i presidi di vigilanza territoriale. Il Prefetto ha rinnovato l'invito all'amministrazione dei locali ad assumere ogni iniziativa ritenuta utile e a tutela della pubblica e privata incolumità. In particolare ha sensibilizzato gli enti locali ad attivare i presidi territoriali con compiti di vigilanza ed intervento tecnico, particolarmente durante le fasi temporalesche intense nelle zone tradizionalmente a rischio, con riferimento ai livelli di allertamento indicati per la zona di propria competenza e la conseguente messa in atto delle relative misure previste dalla propria pianificazione d'emergenza. Nell'area grecanica sono state chiuse tutte le scuole, oggi 7 novembre, tutte le scuole dell'area grecanica sono state chiuse, prorocate in un giorno di allerta meteo nei vari comuni dell'area con l'estensione del comune di merito Porto Salvo. Infatti dopo l'allerta meteo della protezione civile nella giornata di mercoledì, soltanto ieri è arrivata l'ordinanza da parte della commissione straordinaria del comune di Melito di chiudere la chiusura delle scuole dalle ore 14 alle ore 20 di oggi, 7 novembre. Sui vari siti istituzionali dei comuni di Palizzi, Bova Marina, Condofuri, Roccaforte del Greco, Montebello Ionico, San Lorenzo, Motta San Giovanni ed altri comuni dell'area è stato inserito l'avviso nella speranza che la situazione migliori. Nelle prossime ore a San Lorenzo e Bagalari è stata disposta la chiusura delle scuole per oggi e anche per domani, sabato 8 novembre. Monastarace, nonostante le promesse, il Tempio di Kaulon di nuovo in pericolo. Nuovamente in pericolo l'antico Tempio Dorico di Kaulon a Monastarace. Dopo i rischi dello scorso mese di febbraio, le nuove abbondanti precipitazioni di queste ore stanno mettendo nuovamente a rischio la struttura. Il Tempio, situato nel cuore di quella che fu la Magna Grecia, nell'area di Punta Stilo, all'interno del territorio comunale di Monastarace, rischia nuovamente di essere inghiottito per sempre dal mare. Tante chiacchiere, pochi fatti. Già una ventina di giorni fa, gli attivisti del movimento Monastarace nel cuore avevano segnalato il nuovo rischio. Nonostante le promesse dell'ex ministro, chiamato in causa dall'assessionale regionale alla cultura Malio Caliguri, dopo la protesta di cittadini dello scorso febbraio, in nove mesi nulla è stato fatto. Le buone intenzioni sono rimaste tali, perdendosi nei meandri delle pastoie burocratiche. E se non fosse per le fragili barriere di massi predisposte all'epoca della provincia del Reggio Calabria, il Tempio sarebbe già stato ingottito dalle onde. Secondo quanto riferiscono i cittadini, la barriera non sopporterà a lungo la furia del mare, soprattutto considerando il peggioramento delle condizioni medio previste per le prossime ore. I tesori di Caulon, il Tempio Dorico, sorge infatti a pochi metri dalle rive dell'Oionio, ai piedi del promontorio Cogito. La struttura è stata datata intorno all'anno 420 avanti Cristo. Processo Coscalo Giudice. La Cassazione conferma l'impianto della DDA. La Suprema Corte conferma la sentenza contro la Coscalo Giudice. La sesta sezione della Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi avanzati dalle difese e ha quindi confermato le condanne emesse il 30 ottobre 2013 dalla Corte d'Appello Reggira nei confronti dei quattro imputati del processo abbreviato. I giudici di Piazza Castello condannarono a otto anni di carcere Domenico Cangemi per la DDA e adesso anche per la Cassazione e l'Armiere della Cosca. Confermata la condanna a tre anni di carcere e 2000 euro di multe emesse nei confronti di Paolo VI Cortese a due anni e quattro mesi per Giuseppe Perriconi e due anni pena sospesa per Maddalina Toscano. In appello inoltre la Corte presiduta da Iside Russo con Latene Massimo Gullino e Francesco Petrone condannò a nove anni di carcere il pentito Nino lo Giudice e a otto anni il cugino Consolato Villani anche lui collaboratore di giustizia. Una soluzione importante non appellata successivamente dalla Procura Generale fu quella disposta per Consolato Romolo, proprietario dell'Armeria in cui per la Procura Antimafia sarebbe stato occultato l'arsenale dello giudice e per questo condannato otto anni in primo grado. Le accuse crollarono e la soluzione per Romolo divenne definitiva. L'inchiesta contro lo giudice partì dalle dichiarazioni dei due pentiti che al PM della DDA dello Stretto Beatrice Ronchi narrarono nomi, ruoli e responsabilità dei fedelissimi della Cosca. Lo Giudice e Villani hanno rivelato quanto a loro conoscenza su attività economiche e strategie dell'Andrina. In particolare il boss Antonino ha chiamato in causa anche il fratello Luciano. Con le loro dichiarazioni lo Giudice e Villani inoltre hanno consentito di ritrovare un consistente numero di armi, scoprire intestazioni fittizie di beni e di procedere anche a sequestro di attività imprenditoriali. Lo scorso 3 giugno il Tribunale Regino ha condannato dieci persone e ne assolte due. Tra le condanne spiccono i vent'anni di cacere infritta a Luciano lo Giudice e i 14 anni e 6 mesi anni al colonnello dei Carabinieri Saverio Spataro Tracuzzi ritenuto colpevole del reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Gioia Tauro, operaio scomparso trovata auto bruciata. Gli investigatori stanno effettuando certamente sulle frequentazioni dell'operaio non si escude un caso di Lupara Bianca, un operaio Maurizio Mammoliti di 33 anni incensurato e scomparso da venerdì scorso Gioia Tauro. I familiari, non vedendolo rientrare, hanno presentato nel denunciare gli agenti della Polizia di Stato che hanno avviato indagini. L'automobile di Mammoliti è stata trovata bruciata in una scarpata. Reggio Capitineria di Porto sequestra il Calura perché privo di concessione demaniale marittima. La struttura è priva di permesso a costruire, oltre ad essere caratterizzata da tutta una serie di violazioni edilizio urbanistiche ed ambientali accertate ai militari della Guardia Costiera di Reggio Calabria. Personale dell'Unità Organizzativa Polizia Giudiziaria della Capitineria di Porto di Reggio Calabria ha eseguito il sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria. Giusta richiesta della Procura della Repubblica del complesso turistico balneare denominato Calura con attività connessa di ristorazione, sala d'abballo e stabilimento balneare per un'ingombra di oltre 5 mila metri quadri ubicato al confine tra la città di Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Regina prosegue la preparazione. Prosegue nel ritiro di Castrovillari la preparazione della Regina in vista della gara di sabato pomeriggio a Melfi. La squadra ha sostenuto questa mattina una seduta prettamente tattica. Questa mattina è in programma un'altra seduta al termine della quale la Regina si trasferirà a Melfi. Bene, è tutto per questa pagina informativa. Noi ci sentiremo più tardi. Buon proseguimento con le nostre trasmissioni.